iscriviti al canale per un divertimento senza fine arriva la tv la tv quale tv sta arrivando qui pronto una troupe televisiva verrà al campus una troupe televisiva verrà al campus sì una troupe una troupe televisiva una troupe televisiva forse viene per le mie canzoni questa sì che è una bella battuta daisy comunque no viene a riprendere il talent campus diventerà famoso ovunque e finalmente tutti ci conosceranno oh sto per apparire in televisione oh deve essere tutto assolutamente perfetto dobbiamo riuscire a farci notare ci sono organizziamo uno spettacolo sì potrei cantare una mia canzone e noi potremmo creare una coreografia sì giusto ma dovrà essere spettacolare come quelle delle cheerleader che fanno la piramide oh sì certo qualcos'altro una piruetta con doppio salto fino in cima che splendida idea lady mettiamoci al lavoro non abbiamo molto tempo mi hanno detto che la troupe arriverà oggi nel tardo pomeriggio devo fare moltissime telefonate devono venire tutti pronto sì ciao e adesso che facciamo le prove tu sai che questo è il tempo sì lo so sono grandiosa ci vediamo al malo fra dieci minuti va bene pensi che ci metteranno molto ad arrivare beh spero di no certo ovvio dovrebbero venire tutti quelli della troupe ehi ragazzi siete pronti per lo spettacolo su andate a provare uno spettacolo uno vero o una lezione non ne ho proprio idea prepariamo un numero di magia e vai uno spettacolo è l'occasione perfetta per scatenare il caos che bella coreografia bene ci vediamo sul palco fra un paio d'ore per la prova costumi lady ricordati il salto finale sarà il sindaco sì pronto sindaco e tu non balli? beh no non sono brava a ballare però pensavo di preparare qualche biscotto per darvi la giusta carica ottima idea prepara i biscotti mentre noi balliamo e cantiamo che è la cosa più importante ora tocca a me ehi anche i biscotti sono importanti Daisy sembra ci sia un litigio in arrivo non credo che questo sia il trucco più adatto commetto che le ragazze stanno preparando una cosa più semplice vere amiche vai lady non è un po' altino ma fa parte della mia performance sali in che senso è la tua persona? amiche non resisterò ancora all'unico scusatare scusami che disastro così rovinerete il mio spettacolo scusa che cosa? il tuo spettacolo è la cosa peggiore è che ho il mal di gola spero di non perdere la voce ciao ragazze guarda Daisy ho preparato dei biscotti allo zenzero fanno bene alla gola biscotti allo zenzero? sicura che saranno d'aiuto? provali anche i miei biscotti sono importanti sì sì certo fammeli provare è piccante la mia voce non ne fai mai una giusta cosa? adesso basta me ne vado ce ne andiamo anche noi siamo stanche aspettate ragazze la truppa arriverà a breve ciao ciao spettacolo molto bene cominciamo le prove prima esibizione ehi ragazze prima ci siamo tutte un po' scaldate vero? avanti ce la possiamo fare proviamo ancora d'accordo allora farò tutto da sola esercitatevi ancora potete fare di meglio shark adesso fammi sparire ma sono io quello che sparisce è un vero disastro dovete provare ancora e adesso la mia più grande hit la sua più grande hit ehi un attimo perché voi non siete sul palco? perché ho deciso di esibirmi da sola da sola? non esiste ci serve assolutamente la coreografia di gruppo per lo spettacolo dovete esibirmi insieme voi ragazze sarete il gran finale ricordate il futuro del campus dipende da tutti noi tra poco appariremo in televisione il campus è pieno di persone dov'è la troupe? non riesco a vedere le telecamere in mezzo a tutta questa gente telecamere? che mi sono perso? le ragazze non si esibiranno non si rivolgono nemmeno più la parola chi ci fai con quella bottiglietta? shadow peperoncino piccante shadow? ragazze è stata shadow ha messo il peperoncino nei miei biscotti cosa? ma quindi non sei stata tu Connie? oh mi dispiace ragazze ero così nervosa per l'esibizione che ho dimenticato che l'unica cosa importante era esibirci insieme sono stata cattiva con tutte voi sì un po' ma ora dobbiamo esibirci shadow non può averla vinta e poi sapete una cosa? insieme possiamo farcela best friends forever e adesso diamo il benvenuto a Narvi e Jacques ora lo farò sparire tadaaa beh sembra che dovremo cominciare con trucchi più semplici questo è un vero disastro balla cosa? Bibi tu sai che è il tuo momento è tempo di sognare è tempo di ballare noi sempre saremo amiche amiche vere amiche amiche vere amiche amiche vere ah no potete guardate lì ragazze quella è shadow pronte per brillare ancora insieme? potere dell'amicizia no non qualque all'autore è stata incredibile e quelle luci alla fine erano pazzesche ma è davvero strano che la truppa non si sia fatta viva che cosa c'è in quel pacco è la tv la nostra tv è arrivata ci guardiamo un film certo quindi la telefonata per la tv riguardava questa tv la studentessa fantasma parte 1 avete sentito non abbiate paura buongiorno umani tranquilli cari studenti era solo uno scherzo di halloween mi scolletto ovviamente vi ricordo che la lezione di decorazioni di halloween inizia fra poco che forza muoviamoci ragazze ogni coppia dovrà fare un costume di halloween con la carta igienica dovrete usare la vostra fantasia ma niente scherzi cosa mi ho appena detto ovviamente dobbiamo fare una mummia una mummia fatta con della carta igienica mi sembra un po troppo scontato dobbiamo essere più originali il mostro delle nevi fa molta paura io preferisco una mummia dell'antico egitto è più esotica e per me è più spaventosa mostro mummia mostro mummia mostro chi sta litigando è meglio la mia idea è quello che credi tu oh beh il vostro litigio mi fa ricordare una storia misteriosa che è successa al campus molti molti anni or sono la storia della studentessa fantasma faceva delle decorazioni impressionanti voleva sempre essere la migliore le sue zucche erano imbattibili davvero perfette e poteva fare meraviglie usando un pezzetto di carta e qualche palloncino lei lo sapeva si sentiva superiore e disprezzava gli altri non aveva amici ma non le interessava perché lei era la migliore finché non arrivò il giorno della gara di decorazioni lei era convinta di vincere con la sua ragnatela inquietante ma accadde una cosa terribile che non si sarebbe mai aspettata il suo zaino con tutto il necessario scomparve misteriosamente in pre dall'ansia cercò di farsi prestare il materiale qualcuno può prestarmi un pezzetto di carta per favore mi prestate le forbici ma nessuno voleva prestarle le sue cose perché lei aveva sempre preso in giro tutti quanti la poverina non ebbe mai più amici e così fu lasciata per sempre da sola da allora la studentessa ritorna al campus nella notte di halloween ogni anno dall'aldilà per chiedere aiuto a qualcuno per finire la sua spaventosa ragnatela gigante miss collect mi scusi ma per quale motivo sta cercando di spaventarci la studentessa fantasma a me non sembra così spaventosa no non fa paura per niente mi hai spaventata era soltanto uno scherzetto tempo scaduto ci vediamo al prossimo laboratorio quindi è così che funziona la studentessa fantasma mi è appena venuta un'idea Ahahahahaha! E' lampone! Buono! I palloncini hanno cominciato a scoppiare e ho avuto paura. Ragazze, non l'avete capito? Quello che è appena successo è collegato alla storia che ci ha raccontato Miss Collect. Certo! La studentessa fantasma decorava le zucche e i palloncini come i vostri. E i materiali che sono scomparsi in effetti sono gli stessi che servivano a lei per finire la sua ragnatela gigantesca. Io comincio ad avere un po' paura. No, non devi. I fantasmi non esistono. Scommetto che è Miss Collect che cerca di farci uno scherzo. Tu, tu, lo pensi davvero? Sì, lo penso e lo dimostrerò. Miss Collect! Abbiamo scoperto il suo piano malvagio. Il mio piano malvagio consiste nel classificare la mia collezione di 500 statuine di porcellana prima delle 6 di stasera. Sono pesanti e voi mi state facendo perdere tempo con le vostre accuse. Lei voleva farci uno scherzo con quella storia della studentessa fantasma. Come se non avessi niente di meglio da fare. Al momento sono troppo occupata. Lo dimostri. Ci dica dove è stata oggi più o meno fra le 10 e le 12. Mi sta dando ordini dalle 8 di stamattina e come ha urlato quando una statuina stava per cadermi. Sta attento! E voi, ragazzi? Finito con l'interrogatorio? Andiamo, Narvi, muoviti. Allora, chi ci ha fatto lo scherzo? La smetti, per favore? Batte i denti così forte che non riesco a dormire. Cosa c'è che non va, Ella? Ho paura! E si arriva la studentessa fantasma! Sono io! Non riuscivo a dormire. Non ci riesce nemmeno lei, ha troppa paura! Il buio sta calando e vedrai Le ombre della notte scoprirai E sentirai la loro malvagità Ciao fantasma, sei buono o no? Se ci avviciniamo un po' paura avrà Perché sei qui dove sti andare via E allora della studentessa fantasma? Prima Ella batteva i denti e ora c'è questo rumore È impossibile dormire Non posso crederci, non posso crederci! Il fantasma è sotto il mio letto! Il fantasma! Fantasma? Saranno solo degli effetti speciali Connie ha ragione Che cos'è quell'ombra? Lo studentessa fantasma! Il letto tremava Le cose volavano C'erano ragnatele Stavo per farmela addosso Aspettate, manca qualcuno! Dov'è Ella? Continua! Educata, manca ciao! Questa è la sua Le cose volvano Grazie a tutti! La studentessa fantasma, parte 2 Ella! Ella! Sono le ragazze! Aiuto! La studentessa fantasma! Miss Collette aveva ragione! La studentessa fantasma è venuta a prendere una di noi! Non lo so, a me sembra tutto così strano. Avete sentito anche voi? Nei film dell'orrore, i fantasmi catturano sempre i protagonisti e li trascinano nel bosco. È vero! Forse anche la studentessa fantasma ha portato Ella nel bosco. Ok, ecco qual è il piano. Alcune andranno nel bosco, le altre resteranno al dormitorio. Ma non sarebbe meglio rimanere unite? Nei film dell'orrore succede sempre qualcosa di brutto quando i protagonisti si dividono. No, assolutamente no! È un'ottima idea! Troveremo Ella più in fretta se ci dividiamo. E poi i fantasmi non esistono e io lo dimostrerò. Daisy, tu vieni con me! Oh, no, 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 no! Non ho intenzione di tornare in quella stanza! Ehi, Lady! Su, vieni con me! Andiamo nel bosco, ragazze! Dobbiamo trovare Ella! Hai ragione, però il fatto è che abbiamo tanta paura! State calme! Ho il rimedio perfetto! Ciao, fantasma! Sei buono o no? Se ci avviciniamo un po' paura avrò... Hai ragione, Daisy! La musica aiuta molto! Ah, lo so! Le mie canzoni hanno un effetto calmante! Gemma, che succede? Stai bene? Quando sono nervosa batto sempre i denti! È molto strano. Sembra che qui non ci sia nessuno. A quanto pare Ella non è nel bosco. Aiuto! Qualcuno accenda la luce, per favore! Ella! Ella, sei qui? Ragazzi! Finalmente! Ah! È la studentessa fantasma! Vuole uscire dall'armadio! Ragazzi! Aspetta un momento. Se è un fantasma, per quale motivo non attraversa semplicemente l'anta? È Ella! Oh, ragazzi! Eri qui dentro! Tre fuori gioco! Ora tocca alle altre! Dolcetto o scherzetto? Ehi, che cos'è stato? Eh, io ho sentito dormo sotto il letto. Dolcetto o scherzetto? Cosa? Mangiate sul tetto? Mangiate sul tetto? Perché dovremmo? Dolcetto o scherzetto? La studentessa fantasma! Non era la studentessa fantasma, era Shadow! Ma perché ci ha chiuse qui dentro? Cosa vuole? Non lo so, ma almeno siamo insieme. Già, che bello! Mi stai schiacciando! Oh, mi dispiace. Ragazze, dobbiamo avvisare le altre, così ci aiuteranno. Urlate più forte che potete! Aiuto! Siamo qui! Non dobbiamo dividerci per nessun motivo, capito? Sì, capito. Non preoccuparti. Connie! Guarda quassù, sull'albero! C'è nessuno? Ehi, un momento. Dov'è finita, Connie? C'è decisamente troppa calma qui intorno. Mi chiedo se stiano preparando un altro dei loro scherzetti di Halloween. Ehi, ragazzi! Siamo qui! Aiuto! Niente da fare, è inutile. Non possono sentirci. Sentirci! Wow! Questo vestito è super carino! Ma sei seria, Lady? Adesso? Che c'è? Trovo sempre il lato positivo. Eccovi un'altra amica. Connie! Un attimo! Ci ha rinchiuse tutte dentro l'armadio? Già. Ma ci sono tanti vestiti super carini! Lady, te l'ho già detto. Non è il momento adatto. Ragazze, restiamo unite. Si sta facendo buio! Il buio sta calando e vedrai Le ombre della notte scoprirai E sentirai la loro malvagità Ciao, fantasma! Sei buono o no? Se ci avviciniamo un po' paura avrò Perché sei qui, dovresti andare via S-s-s-s-s-sero S-s-s-sero Cosa vuoi? No, 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 no Fermarci non puoi S-s-s-sero Tu non vincerai L'amicizia è più forte che mai Aiuto! Siamo qui! Ehi! Avete sentito anche voi? Sì! Vieni, vada laggiù! Sono le nostre amiche Dobbiamo trovarle! Eccoci scendo Che vuoi spaventare Con le nostre amiche Non puoi più scherzare Scoprirai che l'amicizia Trionferà Se restiamo unite Questo ti batterà Ti batterà Ciao, fantasma! Sei buono o no? Se ci avviciniamo un po' paura avrò Perché sei qui Dovresti andare via S-s-s-sero S-s-s-sero Cosa vuoi? No, 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 no Fermarci non puoi S-s-s-sero Tu non vincerai L'amicizia è più forte che mai S-s-s-sero Cosa vuoi? No, 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 no Fermarci non puoi S-s-s-sero Tu non vincerai L'amicizia è più forte che mai È lei! È lei! S-s-s-s-sero S-s-s-s-sero Potere della cittura! No! Ehi, Daisy, ti devo delle scuse Se non avessimo discusso su quale mostro creare Niente di tutto questo sarebbe mai successo Devo scusarmi anch'io Non c'era un'idea migliore dell'altra Erano soltanto diverse Beh, sembra proprio che finalmente riusciremo a festeggiare Halloween! Sapevo che sarebbe andato tutto bene Certo, certo! Se lo dici tu, Ella! Allora, chi diceva che la studentessa fantasma non esisteva e aveva ragione? Aspetta, stai dicendo che non ci hai mai creduto Già Sei seria, Lala? Ma se sei stata la prima a scappare via? Oh, ehi, Daisy! Posso prendere in prestito qualcuno dei tuoi vestiti? Ne hai alcuni carinissimi? Certo che sì! Tutti quelli che vuoi! Sono la studentessa fantasma! Datemi le vostre decorazioni di Halloween O vi porterò nell'aldilà! No! 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 Oh, adoro Halloween! Oh, adoro Halloween! Siamo arrivati al campus! Questo pomeriggio ci sarà un gioco al campus I vincitori riceveranno un premio È il portale magico del cuore alato! Ritorno a Magic Tears Ma dove siamo? Io sono già stata qui Anch'io Mi sembra familiare ma era più colorato, vero? È proprio come nel mio incubo Ecco perché la Jelly mi chiedeva aiuto Ehi! Questa era la mia casa! Guarda! E la mia era questa qui! Ne abbiamo fatte tante quando eravamo piccole! Possiamo andarcene adesso? Questo posto è noioso Sì, siamo state qui quando eravamo bambine Però ormai siamo cresciute Quindi andiamocene Hai ragione Questo posto non è più come prima E nemmeno noi È evidente che siamo tutte cambiate Cerchiamo Connie e le altre e torniamo al campus Ottima idea! E poi siamo in testa alla gara O forse adesso siamo scese al secondo posto? Un attimo! Guardate! Dobbiamo seguire le noccioline di Connie! Andiamo! Connie! 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 Connie, siamo qui! Sei davvero tu! Loro! Nila! Snowy? Ho sentito tanto la tua mancanza Adesso mi ricordo tutto Vivevamo a Magic Tears Non ci vedevamo da tanto tempo Io vivevo qui vicino In un bellissimo igloo circondato dalla neve E poi facevo sempre snowboard Come ora E io vivevo a tutti i frutti beach Dovremmo andare lì a berci un cray juice Ah sì, erano deliziosi Te lo ricordi, vero? E noi eravamo tutti amiche Una volta Stella ha baciato Narvi Sì, me lo ricordo Non è vero, non se lo ricorda nessuno Ah, cos'è? Una collana? Per me? Ehi, non mi segate Non importa, Lulu È il pensiero che conta Sinceramente mi mancava tutto questo Anche a me Dai, basta, Rim Mi hai scambiata per un gelato Che succede? Perché i colori stanno tornando nel mondo Magic Tears? Non è possibile! Che cosa? Non c'è campo! E ora come faccio senza il mio telefono? Però, hai detto che Rissu fa delle telefonate Che volevi staccare un po' Beh, sì, volevo staccare un po' Ma così mi sembra troppo Devo occuparmi di faccende molto importanti Ora torniamo indietro e andiamo a vincere il nostro premio speciale Dovremmo vincere noi Abbiamo una bandierina in più Solo una bandierina? Non potete batterci Mi piacerebbe visitare tutti i Frutti Beach Ma penso che sia meglio tornare ora O non riusciremo mai a vincere No, non possiamo andarcene Dobbiamo trovare il modo di far tornare i colori Chi se ne importa di quella gara? Il mondo Magic Tears ha bisogno di noi Ma non siamo più delle bebè Allora possiamo risolvere la cosa da adulte Mettiamola ai voti Ok, va bene, sì Chi se ne vuole andare, alzi la mano Uno, due, cinque Chi vuole rimanere qui, alzi la mano Uno, due, quattro Lala, cosa voti? Non so rispondere Lala, non vorrei metterti pressione Però dipende tutto da te Vuoi che restiamo qui? O che torniamo indietro così vinceremo il premio speciale Beh, in effetti direi che siamo praticamente adulte Non voglio che ci mandino via dal campus E se si accorgono che ci siamo allontanate lo faranno Sei voti contro quattro Torniamo al campus Ma io non voglio Non mi piace il risultato Ma è giusto così E poi chissà, magari possiamo provare a tornare più tardi Ehi, che cos'era quel suono? Reem, dove sono finiti tutti? C'è qualcosa di strano? Non è niente, è soltanto il vento Forza, torniamo indietro No, non è il vento Questa risata è uguale a quella del mio incubo Cuore alato, fammi raggiungere l'altro lato Aspettate No, non è il campus Come andiamo via da qui? C'era un cannocchiale, se non sbaglio Possiamo usare quello per cercare un altro portale Proviamoci Non ci stiamo tutte qui dentro Non ci credo Il mondo sembra sbiadito Davvero? Fa vedere, anche tutti i frutti bici È terribile Dobbiamo fare qualcosa No, è meglio tornare indietro subito Prima che succeda anche a noi E come facciamo a tornare indietro, Genio? Va bene, va bene, calmatevi Volete toccare la mia pietra Che trasforma l'energia negativa in positiva? Ma ci sono altri portali Prima voglio vedere se c'è qualche parte del mondo Che ancora colori Non spingermi No, non spingermi Non sono stata io Nemmeno io Stai muovendo il cannocchiale Ma no Ma sì, invece Quella è la foresta di zucchero filato? Oh, Genna! No! Presto, la dobbiamo aiutare Sì, ma come? Oh! Ma certo Voi, Sentasys, avete i poteri Io credo di poter trasformare le cose In gelato Tieni, Phoebe Gelato speciale in arrivo E questo è per Genna! Wow! E voi da dove sbucate? Quante cose state portando? Oh, ti ringrazio, Snowy Oh, Faye Pensavo di aver perso queste pietre Sono meravigliose Wow! Un fossile della montagna fantasy Grazie, Betty Devono essere deliziose Chissà come sta la mia cara Tutti Frutti Beach Grazie, Lulu Ne avevo proprio bisogno Vi ricordate la lacrima magica? Sì, era la cosa migliore del mondo Per me la lacrima migliore era quella di tutti i Frutti Beach Con le gialli sbirichine Oh, mi mancano tanto Erano sempre contente Anche a me Ma nella foresta ce n'era una che sembrava preoccupata Siamo venute qui per lei Ci hanno sempre fatte stare bene Questo mondo era... Era speciale Davvero, era tutto meraviglioso e profumato Anch'io mi ricordo Eravamo migliori amiche Certo che lo eravamo Oh, Rin, così mi fai il solletico Non sta andando come avevo previsto Ma non mi sconfiggerete E' da un po' che non vedo le ragazze Che combineranno? Continua Festa al campus Oh no, il mio oroscopo dice che non sarà più popolare Sicuramente sto già perdendo follower Devo fare qualcosa Andiamo, Lady Non prendere l'oroscopo troppo sul serio Buongiorno, futuri talenti Pronti a partecipare alle vostre lezioni preferite? Niente cellulari e niente feste serali Non sono consentiti Ho trovato! Darò una festa esagerata per riacquistare la mia popolarità Stasera festa! Sì, festa! Tutti al campus mi adoreranno Ciao, Daisy Ciao, Daisy Avete sentito della festa di stasera? Sì, non vedo l'ora di andarci Ehi, Sha! Vieni anche tu alla festa! Oh! Oh, sì, la festa Non posso Ho qualcosa di più importante da fare Oggi voglio chiedere a Daisy di andare a prendere un gelato Noi tre potremmo andarci insieme E poi magari potresti inventarti una scusa Per lasciarci da soli Ma io preferirei andare alla festa Ma... Ciao, Daisy Ti va di andare a prendere un gelato insieme a me? Daisy, devi venire a cantare alla mia festa stasera Ma... Scusate, davvero non vedete l'ora di andare a quella festa noiosa? Noiosa! La mia festa! Non devi preoccuparti, Lady Puoi contare su di me Andiamo! Dobbiamo dirlo a tutti E voi due non pensate nemmeno di venire No! Aspetta un attimo Io volevo dire che... Oh, io volevo andarci Una festa? Questa è la mia occasione Farò in modo che la festa sia un disastro Le tenebre domineranno! È ora di andare a letto E ricordate, niente feste non sono consentite Io adesso mi siedo qui a sorvegliare Andiamo, Shaq Forse se chiedi scusa inviteranno anche noi Che ci fate voi due qui? Non era una festa noiosa? Eh, Shaq ti vorrebbe dire una cosa Eh, Shaq? Sì, penso ancora che sia una festa noiosa Però c'è Daisy e quindi... Noiosa? Sei solo invidioso della mia meravigliosa festa? Volevo soltanto chiederti scusa Molto bene, allora finché non chiede scusa Lui non è invitato alla festa Invidioso? Noi faremo la nostra festa Scommetto che sarà molto meglio della tua Beh, staremo a vedere Che cosa voleva, Shaq? Oh, niente Pronti a divertirvi? Sì! Mi presti la macchina fotografica? Ma certo Ho anche il mio kit degli scherzi Daisy, vuoi una foto? I ragazzi stanno facendo una mega festa Perché non andiamo a dare un'occhiata? Non ci penso proprio Nessuna festa può essere più divertente di questa Connie, alza il volume Diamo inizio alla festa Sembrano buonissimi, Connie Non so se mangiare quello al cioccolato O quello alla fragola Questo qua Penso che proverò a vivacizzare questa festa Sorridete! Dite cheese! Balliamo! Facciamo festa! Cantiamo! Non fermate il divertimento! Dremi, hai visto che cosa hai fatto? Non sono stata io Sono sicura che quello era uno scherzo di Crystal Mio? Tranquille, non è successo niente di grave Ci stavamo divertendo un mondo Ma tu hai mandato tutto all'aria Ma non sono stata io No, certo Per favore, ragazze, state rovinando la festa Vorresti dire che sono una bugiarda? Forse Allora io vado all'altra festa Crystal, no! Mi piace Sta a vedere Arriveranno presto Facciamo le luci da discoteca con la torcia Che succede? Aggiustalo! Va bene, va bene È facile Possiamo andare alla festa adesso? Aspetta, arriva qualcuno Magari è Daisy Andiamo! Oh, ecco dove eri finita Dai, non essere arrabbiata Sono sicura che Crystal voleva solo ravvivare la festa Guarda Sembra che qualcuno abbia messo un dolcetto nella tromba Quindi... Non era uno scherzo di Crystal Ora devo andare a cercarla Crystal, mi dispiace Lo so che non sei stata tu Guarda, qualcuno ha messo un dolcetto nella tromba Qualcuno chi? Dobbiamo dirlo alle altre Perché si è fermato tutto? Mi sento debole Sta succedendo qualcosa Ah! Ho trovato! Sveglierò mi scollette Che spellerà tutte dal campus Per colpa della festa Ehi, tu! Chiunque tu sia Potrai anche rovinare la nostra festa Ma non rovinerai la nostra amicizia Non importa quello che accadrà Noi saremo sempre insieme Quella luce! No! Vi assicuro che tornerò Che cos'era esattamente quella luce? E chi era quella signora? Probabilmente quando abbiamo unito le forze La potenza della nostra amicizia Ha attivato il potere delle collane Cosa? Non mi sono addormentata Non mi sono addormentata Che state facendo? Noi le abbiamo portato Un cuscino Così può stare seduta più comoda Ah! D'accordo Wow! Ma guarda un po' Sembra che alla fine tu ti stia divertendo D'accordo, hai ragione La tua festa è fantastica! Ehi, guarda! La festa è decisamente un successo Il mio livello di popolarità è al 100% Senti, Shack Ti va di andare insieme a prenderci un gelato? Ops! Senti, Shack Senti, Shack Truly, 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 friends Truly, truly, friends D.S.S.S. Nell'episodio precedente La risata è uguale a quella del mio incubo Anch'io mi ricordo Eravamo migliori amiche Perché i colori stanno tornando nel mondo Magic Tears Best friends forever Mi sto divertendo tanto con voi ragazze Sì, anch'io Ma forse ora dobbiamo tornare Stiamo avvantaggiando i ragazzi nella sfida I ragazzi, eh? Soprattutto Narvi, vero? No, intendo tutti i ragazzi, Crystal E se viaggessimo attraverso tutti i mondi Magic Tears Forse scopriremo cosa sta succedendo Io non voglio camminare I miei piedi da diva non possono fare un passo in più Ah, per favore Ma in che mondo vive, Daisy? Ora basta, abbiamo votato Dovete capire che è meglio se torniamo indietro subito Saremo in un guaio enorme Primi, dai un'occhiata in giro Non vedi che c'è qualcosa che non va? È tutto spiedito A questo punto è evidente che c'è qualche problema in tutti i mondi E prima di tornare indietro lo dobbiamo risolvere Sì, è vero? Per questo non abbiamo votato Di nuovo La stessa risata del mio incubo Di quale incubo stai parlando? Ho fatto un brutto sogno E sentivo una risata come quella dappertutto Eh, forse è meglio non scoprire di cosa si tratta Possiamo andare adesso? Se avessi la sfera di cristallo di mia cugina Tina Potrei capire cosa sta succedendo e come andarcene via da qui Sì, andiamo A casa di Tina Cerchiamo la sfera, forza Andate pure, io vi aspetto poi Oh no, tu vieni insieme a noi Volare è troppo cool Che bello Cominciamo a cercare Guardate, questo è un ciuccio di diamante Quando eravamo bambine passavamo giornate intere a cercarli Sarebbe perfetto come ciondolo Ehi Preferivo il farfallino, stava benissimo con il cappello L'ho trovata Prendila, Phoebe Magica sfera di cristallo Mostrami che sta accadendo di male Se serve, posso anche fare una verticale Beh, credo tu debba farla davvero Sì, ha ragione Bene, ora vedo qualcosa Sì, è una mela gigante Una mela? E dove possiamo trovarla? A tutti i frutti Mitch Andiamo? In che direzione? Quella è Nila Andiamo con lei Wow Devo dire che non me la ricordavo così Così Possolente Deprimente È davvero terribile Guarda, ci sono tantissime jellies Sembrano molto tristi Dai, fammi andare più vicino Forza Ancora un po' Non così tanto Non così tanto Jenna, vai più piano Ops, mi dispiace È una cosa disgustosa Questa probabilmente era una mela È impossibile trovare qualcosa qui Oh no Che cos'è successo? Il lago Lampone è marcito Vi ricordate quando abbiamo dovuto salvare Mel? Abbiamo bevuto quasi tutto il lago Era così buono Non come adesso E quando le jellies si sono intrufolate nella fabbrica? Sì, è stato un disastro Ma ci siamo divertiti a rimettere a posto tutte insieme Tutta questa amicizia mi fa sentire male Vi farò smettere di ridere presto Forse ho fatto un po' la diva Mi dispiace Siamo ancora amiche, vero? Sì, ma prima è meglio che ti accompagni alla spiaggia Così puoi lavarti un po' D'accordo Dobbiamo trovare la mela che abbiamo visto nella sfera di Tina Oh no, non ce la faccio più Io mi arronco La mela Ti prego, resisti Dov'è, Gianna? Serve qualcuno che voli Non c'è tempo Presto Dobbiamo formare una catena umana Manca ancora un po' Coraggio, ragazze, tutte insieme Dai, forza Dobbiamo resistere Ci sono quasi Oh no, bravo Altre Uno, due, tre L'ho preso No, rima Grazie per averlo salvato, Gianna Per fortuna stai bene Grazie, ragazzi Oh, guardate Le collane sono tutti uguali Che piace Best friends forever Questa è la mia Tutti Frutti Beach Sono tornati i colori E c'è un buon profumo Tutti frutti Tutti frutti Cosa vuoi dirgli? Ho capito Adesso possiamo tornare indietro Certo Dovevamo solo essere di nuovo amiche e collaborare come quando eravamo piccole Best friends forever Anche se non mi spiego ancora quella risata malvagia Che importa, i colori sono tornati e noi possiamo tornare al campus Sono sicura che mi mancherai tanto Ma dobbiamo crescere Non possiamo restare piccole per sempre A presto, Snowy Forza, dobbiamo tornare indietro e vincere il premio Ma prima di andare posso fare un ultimo volo Ciao A presto Fammi sapere se succede qualcos'altro Vorrei che potessi venire con me, Rim Sappiate che non è ancora finita Cosa? Ma quella non era... Ah, ma no Ciao, Rim Mi mancherai tanto Trasformerò il campus in un luogo di oscurità e tenebre Rim? Rim! Wow! Sei meraviglioso! Ma cosa ti fai qui? Sbrigati, Dreamy! Presto, vinceranno i ragazzi! Se qualcuno scopre che sei qui, dovrai tornare indietro Presto, devi nasconderti Forza, siete in ritardo, ma non correte Uno, due, tre bandierine Abbiamo i nostri vincitori Il premio speciale va a voi, ragazzi Oh no, c'eravamo quasi Veramente ne avevamo una Non importa, adesso siamo di nuovo amiche Sì, siamo le migliori E poi, come premio di consolazione, ecco un po' di torta Un set di trucchi E questo è il premio speciale? Beh, a me piace A me no Quello è il nostro premio! Davvero? Allora prenditelo! Ok! Ora vedrei! Mi piace questo posto Ho deciso che distruggerò questa amicizia Ah! 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 Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, 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 sì Cibo e frullati gratis Se siete interessati, lasciate i moduli per la candidatura nel mio ufficio Essere presidenti è fantastico Così si può davvero fare la differenza Io mi candido di sicuro Anche io E anch'io Che cosa tutte e tre? Sapete già che vincerò io Io non credo Voteranno tutti per me perché sono la migliore a risolvere i problemi Vi sbagliate entrambe, voteranno per me Ah sì, staremo a vedere Interessante Queste elezioni stanno scaldando l'atmosfera È grandioso, abbiamo ben tre candidate Beh, diamo inizio alla campagna Ora voterete una presidente che Sarà il cambiamento che servirà Vota Lala Super divertente Vota a Phoebe Lei è calma e cool Vota a Jenna Problemi non avrai Questo è il momento di votare chi vorrai Sarà una presidente che non scorderai Se voterai per me ti insegnerò lo yoga Sei pronto? Se voterai per me vedrai un po' di magia Non è fantastico? Se voterai per me tante storie sentirai In biblioteca Tante nuove idee per un campus così Se vuoi una svolta devi dire sì Oh no, la mia statuina di porcellana preferita è sparita Mi ricordava tanto la mia gattina Era un pessimo inizio per questa campagna elettorale La cosa che mi manca di più di lei è quando mi portava le pantofole Ed era sempre così tranquilla Dormiva sotto il mio letto e mangiava tutti gli avanzi Non starà parlando della vecchia presidente? Dormiva sotto il suo letto e le portava le pantofole Io non voglio fare niente di tutto ciò Ho paura che candidarsi non sia stata una grande idea Pensate quello che penso io Miss Collect, non vogliamo più candidarci alle elezioni Ci ritiriamo, grazie di tutto Non così in fretta Una volta candidate non ci si può ritirare Ma, ma... Su, ora basta con le sciocchezze Mi farete arrabbiare E voi non volete vedermi arrabbiata, vero? No, certo che no Già, come pensavo Ah, ricordate che domani è il giorno del dibattito Perciò non dimenticate di consegnarmi la busta con tutte le vostre proposte Non saremmo in questa situazione se tu non avessi avuto la brillante idea di candidati L'idea è stata di Phoebe Non è vero, è stata tua Bravissime ragazze Continuate a litigare Così finalmente potrò mettere in atto il mio grande piano Per distruggere la vostra sciocca amicizia e farvi espellere dal campus E va bene, la mia proposta è di raddoppiare le elezioni Uniforme obbligatoria per tutti quanti Vietato ridere e scherzare In questo modo perderò di sicuro Questo è ciò che pensate voi Ma il piano che ho ideato io è molto più geniale Oh, sono così costiva Oh, ecco dove eri finita Pensavo di averti persa Ciao, micina mia Diamo inizio al dibattito Gemma è la candidata ideale Ha sempre ottime idee Oh, non scherziamo Tutti sanno che l'ala è la più simpatica No, la migliore è Phoebe Che fa andare sempre tutti d'accordo Non capisco che cosa vi sia preso, ragazze, ma... Adesso leggerò le proposte delle nostre tre candidate Cominciamo con la proposta di Phoebe Dormire sarà lo sport ufficiale del campus Inammissibile Ma non è quello che ho scritto io La proposta di Jenna è di chiudere la biblioteca E creare un locale pieno di dolci Con muri di zucchero filato da mangiare Ma che razza di proposta è? Cosa? Scommetto che è colpa tua E la proposta di Lala è di dare un telefono a ogni studente Ma non sono permessi a lezione? Avete cambiato la mia proposta Sono tutte proposte grandiose Ma che gran confusione Sono sempre io la migliore E se sono fortunata Vinceranno tutte e tre Chissà come andrà a finire Ci siamo quasi Manca soltanto una cosa Ovvero contare i voti La nostra nuova presidente è? Un momento Oh c'è stato un pareggio Che cosa un pareggio? No! E la vincitrice è Shadow Shadow! Ho capito Scommetto che questa è opera sua Ok è ora di mettere da parte la rivalità Già adesso dobbiamo unire le forze per sconfingerla Forza ragazzi fermiamola Potere dell'amicizia! Basta non vi sopporto più! Sì! Siamo le migliori Best friends forever! Ecco la soluzione La carica andrà a tutte e tre Ma farete dei turni ok? Scusi Miss Colette Ma non vogliamo più essere presidenti Esatto E non ci importa se si arrabbierà Non ci interessa mangiare i suoi avanzi E portarle le pantofole Portarmi le pantofole? Ho capito Oggi è il giorno della follia E nessuno si è degnato di avvisarmi Ma l'ha detto lei al telefono No avete frainteso Non stavo parlando dell'ex presidente Stavo parlando della mia gattina Che adesso vive con mia nipote Oh ok Beh allora non vedo il problema Nel fare i turni come presidenti Giusto ragazze Al campus non ci sono mai state tre presidenti insieme Tantomeno ho tre presidenti amiche Dove sono i telefoni? E le hamache per dormire? Vogliamo il locale pieno di dolci Accidenti! Scappiamo! Ehi! Tornate subito qui! Mi scolletti! Non ci abbandoni così! Temo dovrete cavarvela da sole È l'ora della videochiamata con la mia dolce amicina Aiuto! È l'ora della videochiamata con la mia dolce amicina Il ballo di Crystal Ragazzi e ragazze Domani è la giornata della scienza Ci saranno due eventi molto speciali al campus Il festival musicale per gli studenti E la lezione di robotica con la famosa scienziata A N- mày! Underdododod Che bravo, sei fortissima! Oh, Crystal, tu balli benissimo! Sembri una professionista! Non è niente di speciale! Ascolta, io e Narvi abbiamo scritto un pezzo nuovo e domani lo suoneremo per il giorno della scienza! Ti andrebbe di occuparti tu della coreografia? Ma certo, mi sembra un'idea fantastica! E vai, ti mandiamo subito il pezzo allora! Perfetto, verrà benissimo! Una lezione di robotica? Ma è fantastico! Vorrei tanto costruire uno chef robot per le mie ricette di cibo sano! Io ho uno che mi taglia i capelli! Io voglio un unicorno, skate e robot! Oh, non preoccuparti, Rim! Tu sei unico! Non ti serve uno skate! Ciao ragazze, come va? Ciao, Crystal! Pensavamo di andare alla lezione di robotica di domani per costruirci un robot! Vieni con noi? Certo! Avevo qualcosa da fare, ma non me la ricordo più! Andiamo! Sono sicura che non è importante! Ci divertiremo! D'accordo, ragazze! Allora domani ci robotizziamo! Non dimenticate i microchip! Che cosa dovevo fare? Concentrati, Crystal! Oh, messaggio di Narvi! Speriamo che il nostro pezzo ti piaccia! Oh, lo ascolto! Eh, che bella questa musica! Un momento... Questo qui era il brano per... Ah! Crystal, è ora! Andiamo alla lezione di robotica! Chi andrebbe di occuparti tu della coreografia? Ma certo, mi sembra un'idea fantastica! Ho promesso che avrei preparato la coreografia per domani! Ora che scusa mi invento per saltare la lezione di robotica! Forse se... Ah! Mi è venuta un'idea! Oh! Menti ancora le sue amiche! Questo non va bene! Mi piace! Crystal, ti stiamo chiamando! Ah, sono qua su! Accidenti! Hai un aspetto terribile! Stai bene, Crystal? Credo di essermi presa qualcosa! Mi sento molto male! Mi 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 mi! Guardate, sembra che la Jelly voglia divertirsi! Per favore, non è il momento adatto! Ah, mi sento molto male! Dobbiamo andare a dirlo a miscolletta! Avete detto che ha dei puntini rossi e verdi sulla faccia? Oh, no! Non c'è dubbio! È un sintomo della febbre selvaggia! La febbre selvaggia! La febbre selvaggia della foresta è un virus molto strano! Coloro che vengono infettati diventano selvaggi e fanno delle cose strane! Una volta una ragazza si è arrampicata sull'albero più alto della foresta ed è rimasta lì tutto il giorno ululando come un lupo! L'hanno dovuta portare giù con un elicottero! Apriamo le danze! Ups! I dormitori sono di là! E adesso è il momento di fare le prove! Ehi, chi ha alzato il volume? Non funziona più! Ma che cosa c'è che non va? Con tutto questo rumore mi scopriranno! Aspettate, che cos'è? Viene dalla camera di Crystal, muoviamoci! Crystal, va tutto bene! Che cosa? Solo un attimo fa l'abbiamo vista a letto ed era senza energie! È strano! Vuol dire che ha la febbre selvaggia della foresta! Ah, che disastro! Non si ferma neanche così! Crystal! Oh, per fortuna siete arrivate! Sono molto malata! Certo, poverina! Scommetto anche che hai la febbre alta! Ah, ah, lo sapevo! Non sono veri! È il momento di alzare il volume! Come hai potuto, Crystal? Tu ci hai mentito! Che state dicendo? Non riesco a sentirvi, ragazze! Stiamo dicendo che tu sei una bugiarda! Avviva la negatività! Grazie a voi il mio potere aumenta! Che cosa succede? Non ne ho idea! I miei piedi si muovono da soli! Vi piace? È la musica della negatività! Crystal, ti senti bene? È la febbre selvaggia! Oh, no! Guardate i miei scolletti! Che modo pazzesco di ballare! Domani non si muoverà! Odio le vibrazioni positive! Vediamo se così riteranno ancora! Aiutatemi! Non ce la faccio più! Sono esausta! Aspetta un attimo! Su di te non funziona! Gialli, ci devi aiutare! Devi far smettere la musica! Mi dispiace, ragazze! Non volevo venire alla lezione perché dovevo finire di inventare una coreografia per il giorno della scienza! Non avrei mai dovuto dirvi una bugia! Non importa, Crystal! E comunque, siamo ancora in tempo per la lezione di robotica! Domani sarò distrutta dopo aver ballato così tanto! Eccole lì! Io non le sopporto! C'è ancora quella signora! Signora? Io sono Shadow! Qualunque sia il tuo nome, è successo tutto per colpa tua! Dai, ragazze, prendiamola! Potere dell'omicidia! Potere dell'omicidia! Quella luce! Bene, per fortuna è finita! Allora, vogliamo andare a lezioni oppure no? Sì! Robotizziamoci! Non vedo l'ora di conoscere la famosa scienziata Android! Mi hanno detto che ha un braccio meccanico e che sembra proprio un robot! Ehi, Crystal! Come va con la nostra coreografia? Mi dispiace, ragazzi! Non è ancora pronta! Tornerò a lavorarci dopo la lezione! Non preoccuparti, il festival è stasera! Vuoi sentire com'è la versione finale? Wow! Ha davvero un bel ritmo! Hanno tutti la febbre selvaggia della foresta! Devo scappare prima che sia tardi! Di nuovo insieme! Lady, Lady, Lady! Svegliati, siamo arrivati al campus! Ho fatto un brutto sogno! Sembrava così irreale! Ehi, siamo arrivati! È semplicemente fantastico! Lo sai, Connie? Ho la sensazione che qui vivremo tantissime avventure! Andiamo! Ti chiedo scusa! Non preoccuparti! Hai visto cosa è successo? È una cosa assurda! Non si sono neanche salutati! Non capisco! Può darsi che... Ciao, Narvi! Ciao, Ella! Ciao! Io me ne vado! Non si ricordano di noi! Forse perché siamo un po' cambiate! Wow! La cafeteria è super cool! E guarda! C'è solo cibo biologico! Ci saranno lezioni di cucina! Non vedo l'ora di aggiungere ricette al mio libro! Ciao, Dreamy! Ciao, Crystal! Non vi ricordate di noi? Giocavamo insieme quando eravamo bambine! Ha detto bambine? Beh, bel modo di cercare di fare amicizia, ma a me non interessano le cose da bambine! Oh, perché non possiamo essere amiche come allora? Dai, non pensare a loro! Noi siamo migliori amiche per sempre! Non rilascio altre interviste! Sono al campus per rilassarmi! Per sempre! Scusami, va tutto bene? Io mi chiamo Daisy! Sì, sì, piacere di conoscerti! Sono Shaq! Beh, allora ci vediamo a lezione! Sì, sicuramente! Ci vediamo in classe! Adesso io devo andare! Ciao! Ci vediamo a lezione! Oh, Shaq! Mi sentite? Sì, immagino che mi sentiate! Vi do il benvenuto al mio campus! Cioè, al Talent Campus! Dove metteremo le ali al vostro talento grazie ai nostri corsi esclusivi! E alla mia infinita pazienza! Una cosa importante! Ci sono delle regole fondamentali! Non si corre per andare a lezione e niente cellulari al campus! Ah, ci sono sempre delle regole! E adesso cominciamo con l'assegnazione delle camere! Speriamo di essere insieme! Dai, dai! Dreamy e Phoebe! Nella camera numero due Ella, Daisy, Stella e Crystal! Ok! Nella camera numero uno Lady, Lala e Connie! Evviva! È fantastico! Con Lala ci divertiremo un sacco! Io scelgo il letto per prima! No! Prima io! Volete vedere un trucco? Mi piace! È bellissima! È un profumo buonissimo! Carta, forbici e sasso per scegliere il letto? Carta, forbici e sasso! Sì! Ho vinto io! Scelgo il letto di sopra! Io so fare un trucco! Finito! Che bello! Hai fatto un ottimo lavoro! Anche il tuo lato è molto carino! Guarda! Ecco Lala! Ditemi, è questa la carta cui stavate pensando? No! Vuoi delle noccioline? Aspettate un attimo, forse era... Questa? Beh, in realtà scusa, ma non ci hai detto di pensare a una carta! Lala è ancora super divertente! Una cosa importante! Se non volete essere rimandati immediatamente a casa, non dovete mai lasciare il campus! E ora, passiamo alle buone notizie! Questo pomeriggio ci sarà un grande gioco al campus! I vincitori riceveranno un premio speciale! Dobbiamo vincere! Quel premio deve essere nostro! Oh no! Questa volta ci hanno separate! È una cosa terribile! Tranquilla, è solo per questo pomeriggio! E in questo modo possiamo conoscere gli altri e parlarne insieme più tardi! Guardiamo il lato positivo! Oh, va bene! Come ho detto, la prima squadra che arriverà alla fontana con le tre bandierine sarà la vincitrice! Per trovare le bandierine dovete risolvere gli indovinelli! Il primo è questo! Se la musica è nel tuo cuore, per cantare trova il posto migliore! E ora potete iniziare a cercare! Io dico di cercare sul palco! Ottima idea! Ricordatevi di seguire sempre le scole! Secondo me è l'ufficio di Miss Colleggi! Non ho intenzione nemmeno di fare un concerto! E se fosse la camera di Daisy, lei sa decisamente cantare! No, no e no! Non voglio cantare, mi voglio solo riposare! D'accordo, possiamo prima cercare in un posto e poi nell'altro! Va bene, cominciamo dalla camera di Daisy! No, dall'ufficio di Miss Colleggi! L'ho trovata! Sì! Grande! Brava! Che facce buffe avete? È finta, era uno scherzetto! Non è per niente divertente, Crystal! Dobbiamo vincere quel premio! Ah, ma quanto è noiosa! Ehi, guardate! Sì, ho la bandierina! Ti prego, Crystal, smettila! Oh, bravissima, Crystal! Ne abbiamo già una! Vinceremo di sicuro! Ehi, qui c'è un biglietto! Se il premio vincere vorrai, nel posto dove gli alberi coprono il cielo andrai! Nella foresta! Andiamo! Deve essere nell'ufficio di Miss Colleggi! Andiamo, io voglio vincere il super premio! Anch'io, per questo dobbiamo andare nella camera di Daisy! Aspettate, quella è... Oh, non posso crederci! Ragazzi, è una jelly! Te la sei immaginata! Le jelly non esistono! Scusate, ma di cosa state parlando? Sì che esistono! Non ve lo ricordate? È una lacrima magica! No, non può essere vera! Qualcosa non va! Sembra spaventata! Penso ci stia chiedendo aiuto! È il portale magico del cuore alato! Sì, certo! E io trasformo le cose in gelato come quando ero bambino! Ragazzi, quello è davvero un portale magico! Ma per dove? Beh, scopriamolo! Aspettatemi! È fantastico! Guardate! Non sono le nozzoline di Connie! Un portale magico! È una cosa... meravigliosa! Dobbiamo riuscire ad attraversarlo! Ma come? Ci sono! Cuore alato! Fammi raggiungere l'altro lato! Che c'è adesso? Ti appunto una zanzara o qualcosa del genere? Non ve lo ricordate? Fa un passo di qua e fa un passo di là! Il portale fantasy di luce brillerà! Secondo te dove ci porterà? Lo vedrete! Vi piacerà un sacco! Continua! Grazie a tutti! Cazzo all'agro Trovato! Rin! Ti ho cercato dappertutto! Tieni, l'ho preparato durante la lezione di cucina Tutti gli ingredienti sono biologici Ti piace, eh? Te ne porterò ancora No, Rin! Sai che non puoi venire con me? Nessuno deve vederti Un miscolletto ti caccerà dal campus Appena potrò, te ne porterò ancora Ora devo andare Ci vediamo domani, Rin! Porta! Tutti e freddi! Buongiorno! Domani è il giorno delle visite Tutto dovrà essere perfetto Il cibo che ho preparato per i visitatori è squisito Ricordate di tenere il cibo al fresco Nel frigorifero della caffetteria E non dimenticate Controllate che il frigorifero sia alla giusta temperatura E che il cibo sia tenuto al fresco per i nostri ospiti 3...2...1... Per essere forte, mangia sano E per tutto il giorno sarai un uregano! Ciao ragazzi! Avete visto delle mele in giro? Sono giorni che non ne trovo No! E non sono l'unico cibo scomparso Perché sono spariti anche un bel po' dei miei cupcake Io invece credo che qualcuno mi stia spiando Qualcuno con i capelli colorati Cosa? Sei sicura? Non starai esagerando un po'? Tu come spiegheresti le ombre che vedo dalla finestra? Forse è un tuo fan? Oh! A quanto pare ti piace avere segreti con le tue amiche Beh, credo che ora mi divertirò un po' Mi assicurerò che il cavallo venga cacciato E che tu lo segua! I miei cupcake sono spariti! Qualcuno di voi ha visto le mie fragole? E dove sono le mie mele? Ah! Qualcuno ci sta derubando! Avanti ragazzi! Di certo sarà... Dobbiamo catturare il ladro Bene, è ora di trovare quel ladroncolo Ci divideremo in tre squadre E la squadra A controllerà i food truck La B controllerà le stanze E la squadra C? Sì, eccoci qua! Con noi tre il cibo è al sicuro! Sì! Cercate di non fare danni, va bene? Ragazzi, io... Io devo andare a... Ecco... A posizionare le trappole per il ladro Rima! Rima! Oh, poverino! Devi nasconderti! Stanno cercando il ladro che si è mangiato tutto Ti scopriranno! Squadra A! Con me! Il ladro deve essere nascosto qui da qualche parte! Squadra B! Sono certa che il ladro sia nascosto laggiù! Mi dispiace, sarà soltanto per un po' Userò dei torsoli di mela per creare una pista falsa In modo tale da depistarli Poi penserò a un posto migliore in cui nasconderti Seguitemi, il ladro si trova qui, me lo sento Oh no, sono già arrivati! Ehi, guardate! Torsoli di mela! Ci siamo! Il ladro deve essere qui dentro, andiamo! Lì non mi troveranno! Questo è ciò che credi tu? Ah, è così buio qui! Le tracce portano lì Il ladro deve essere dietro quella porta Aspetta un attimo Non possiamo entrare, non è permesso! Ma il ladro deve essere lì dentro! Forza, andiamo! Aiutatemi! Oh no, stanno per entrare! Devo fare qualcosa! Su, spingete! Dreamy? E ora che cali l'oscurità! Oh, grande! È andata via la luce! Dreamy, sei tu il ladro! Hai rubato tu le mele! E che mi dici dei miei biscotti? Aspettate, non sono stata io! Posso spiegare? Ehi, un momento! Se è andata via la luce significa anche che... Il frigorifero non funziona! Oh no, occidentemente! Così andrò male! Aspettate un attimo, ragazze Vediamo un po' qual è il problema Il generatore non è rotto Era solo scollegato! Sì, mistero risolto! Ma come facciamo a sollevare il generatore? Questa è un'ottima domanda Vediamo Rim! Sei davvero tu! Wow! Sei grandissimo! E cosa ci fai qui? È per questo che ho preso le mele Per darli a Rim Ma non so niente sugli altri furti Siete arrabbiate con me? No, ma perché non ci hai parlato di Rim? Temevo avreste cercato di mandarlo indietro Perciò l'ho nascosto Dreamy, Rim è fantastico! Non c'è nulla di male se volete restare insieme Dite sul serio! Certo! Vi adoro! Forza, Rim! Solleva il generatore! Sì, capisci! Ce l'abbiamo fatta! L'oscurità inghiottirà il campus Se voi non la fermerete Ancora tu! Quel cavallo non rovinerà i miei piani Rim è un unicorno Il più forte di tutti E il più bello di tutti E ha un grande appetito! Noi lo proteggeremo perché è il nostro amico Potere dell'amicizia! Nooo! Di certo è stata Shadow a rubare tutte le nostre cose Ci dispiace, Dreamy Tranquilla, è tutto ok Dobbiamo pensare a dove nascondere Rim Miss Collette non deve sapere che è nel campus Il cibo per gli ospiti! Era tutto buonissimo Il cibo è al sicuro Nelle nostre pance! Guarda! Ora funziona di nuovo Credi finiremo nei guai per aver mangiato tutto? Nooo! Attenzione studenti! Spero sia tutto pronto Perché gli ospiti arriveranno fra 15 minuti No, che buono!